Parte ufficialmente da oggi la cosiddetta operazione precompilata per la dichiarazione di erediti. Da oggi, lunedì 20 maggio, è aperto infatti il canale diretto con l'Agenzia delle Entrate per l'invio della dichiarazione di erediti precompilata 2024 relativa al periodo di imposta 2023. Ma vediamo le novità. Tra le novità della dichiarazione di erediti 2024 c'è un effettivo allargamento della platea dei contribuenti che può presentare la dichiarazione 730 2024. Questo allargamento è dovuto al fatto che anche i contribuenti che hanno un lavoro autonomo occasionale e redditi di natura inerenti ai redditi di terreni e fabbricati possono presentare il 730 inserendo come sostituto di imposta l'Agenzia delle Entrate. Quindi che il 730 finisca a credito o a debito possono inserire l'Agenzia delle Entrate. Il modello precompilato dunque, che era già possibile visionare dal 30 aprile, può essere accettato, modificato e integrato rispetto alla versione messa a punto dall'amministrazione fiscale. Per farlo ci sarà tempo dal pomeriggio di oggi, 20 maggio, fino al 30 settembre per il 730 e fino al 15 ottobre nel caso si utilizzi il modello redditi. Sono queste le date da tenere a mente come ultimi giorni disponibili per trasmettere telematicamente le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda i rimborsi, si può presentare direttamente il 730 a un sostituto di imposta che è la propria azienda o per i pensionati direttamente l'Inps, ma quest'anno c'è anche la possibilità di presentare direttamente il 730 all'Agenzia delle Entrate. Quindi qualora ci fosse il problema che un sostituto di imposta non può rimborsare il credito da 730, può essere inserito come sostituto di imposta l'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà però al rimborso dal mese di dicembre, inserendo e comunicando il proprio IBAN. Inoltre è importante ricordare che prima si invia la dichiarazione e prima si ricevono gli eventuali rimborsi fiscali. L'innovazione digitale è sicuramente un'opportunità per tutti per velocizzare gli adempimenti, però come ribadiamo, il fatto di essere assistiti da una persona fisica sicuramente è la maniera ancora corretta per indicare in maniera precisa e puntuale le spese e avere un credito o un debito effettivo.